Allora piano piano cominciamo il nostro incontro. Buonasera a tutte e a tutti. Siamo contenti di essere qui a incontrare non per la prima volta, penso a Bolzano, ma forse qui in questa sala per il Teatro Cristallo, Elvira Muicic. Ciao Elvira. Ciao, buonasera a tutte e a tutti. Siamo contenti per diverse ragioni perché probabilmente condividiamo con Elvira degli interessi sulla parola, su che cosa significa vivere in più lingue, sul fatto che per mestiere, per sicuramente anche lei per passione, si confronta ogni giorno con l'esperienza diciamo emozionale del lavorare con le parole. È vero? Beh sì. Ho sbagliato di qualcosa. Ho sbagliato persone. Ho sbagliato persone. No, in effetti sì, abbiamo in comune questa cosa e questa anche difficoltà di definizione. Mi piace qui, prima chiacchieravamo su quanto è difficile definirsi e quanto le parole ci ingabbiano in alcune definizioni che non sentiamo nostre e che magari in una lingua suonano meno pesanti e in un'altra invece sembrano più lievi. Sì, io faccio questo passaggio diciamo quotidiano nella traduzione che è diventato un po' una sorta di escamotage per vivere una dimensione diversa dalla solita migrazione. Io ho avuto la fortuna di trovare all'interno di questo mestiere della traduzione la possibilità di unire i due mondi ai quali mi sento poi di appartenere perché non traduco da una lingua qualsiasi ma traduco dalla mia lingua madre e già questo per definizione non sarebbe possibile perché si traduce invece verso la propria lingua madre, non da. e anche questo è particolare, noi abbiamo delle regole per ogni cosa, abbiamo persino il movimento come deve essere da o verso, non teniamo conto del fatto che la vita poi è estremamente più ricca delle regole. È pluridirezionale. Esatto, esatto, i movimenti non sono definibili così facilmente. Quindi ecco sì, la mia quotidianità è questo andare, questo andrivieni tra una lingua che dentro di me a livello emozionale, se parliamo di emotività, la mia lingua madre è giovane, giovanissima, anzi a 14 anni, è rimasta ferma ai 14 anni, ossia al momento in cui ho smesso di parlarla in modo del tutto attivo e questa è una grande fonte di tante cose, avere una 14enne che vive e parla una lingua dentro di sé e è una ricchezza sia nella traduzione ma soprattutto nella scrittura per quanto mi riguarda. E quindi questo 14enne continuamente mi aiuta a interpretare un mondo e a portarlo qui. Forse quale modo migliore di un 14enne per interpretare il mondo, chi lo sa? Un'adolescenza permanente, insomma, in te, linguistica, ma chissà, forse anche in qualche recondito, anche psicologica. Noi abbiamo intitolato, diciamo, in accordo, trasportando parole, questo nostro incontro, pensando appunto alla, diciamo, la professione sia di traduttrice di Elvira sia di scrittrice, perché ovviamente c'è una doppia funzione, un doppio sguardo. Lo sguardo di chi con le parole crea una storia ex novo e chi crea invece la seconda volta di una storia di qualcun altro. E questo, diciamo, è un aspetto che non tutti riescono a sperimentare linguisticamente e però credo che sia un vantaggio il fatto che tu ami scrivere storie, hai detto, l'ho sentito, detto da te. E quindi l'aspetto della narrazione. Allora, quanta narratività c'è nel tradurre storie di altri nel processo traduttivo? Eh, questo è un limite molto difficile da... Bisogna trovare una misura, la misura tra ovviamente una forza autoriale che ha anche il traduttore, perché il fatto di scrivere una storia per la seconda volta in un'altra lingua ha anche di autoriale come traduttore. Naturalmente non è che se uno traduce Dante poi è coautore con Dante, però sarebbe bello. Però c'è... Non lo saprà mai tanto. Esatto, non lo saprà mai. Ecco, esatto. Soprattutto in effetti con le scrittrici e gli scrittori che non ci sono più, c'è una parte di autorialità forte, perché di fatto si prende una responsabilità poi alla fine rispetto alla parola che si sceglie di isolare e portare sulla pagina, rispetto ad altre parole di sfumature magari leggermente diverse, ma che potrebbero... Allora in una rosa di parole che tu hai per tradurre ne scegli una. E questo è un atto di responsabilità autoriale. Per gli scrittori e le scrittrici che non ci sono più è ovviamente definitivo, ma anche per quelli viventi, perché non è che uno può continuamente chiedere all'autore, all'autrice che cosa intendessi con questa parola o quell'altra. E quindi c'è nella traduzione un qualcosa di intimamente legato all'idea che il traduttore e la traduttrice hanno della lingua. A me capita di insegnare, in realtà di fare da mentore per traduttori emergenti. E la cosa più difficile da insegnare è questa di prendersi la responsabilità della propria traduzione, perché poi sei tu che la firmi, non è il mentore, non è... Quindi prenderti la responsabilità di quello che alla fine trasporti. E nel trasportare delle cose si perdono. Noi sappiamo che nel corso del viaggio qualcosa si perde, qualcos'altro si acquista. E allora ovviamente la traduzione ha a che fare con la mia sensibilità rispetto a una parola. Ieri, giusto, stavo lavorando con una traduttrice e siamo state a pensare a un titolo che poteva essere Nonostante la primavera oppure Malgrado la primavera. Nonostante o Malgrado. Nella mia idea Malgrado è un qualcosa, nella sua era un'altra cosa. Così il nonostante per cui ci siamo confrontate e poi ognuno è rimasto della propria idea. La sfumatura della parola era profondamente legata ai nostri vissuti e quindi anche la scelta poi è stata della traduttrice ed è stata non quella mia ma la sua. Quindi ecco, questo è un aspetto secondo me dal quale non si può prescindere perché altrimenti forse un giorno Google Translate potrebbe benissimo soppiantare qualsiasi traduttore. Io ho amici che sostengono che è utilissimo e che comunicano così. Io dico sempre buona fortuna. Dipende forse dalla... Beh, Oddio, Umberto Eco ne aveva studiato tantissimo le potenzialità e nel suo testo dire quasi la stessa cosa. Ci sono delle soluzioni esalaranti grazie a Google Translate. Quindi si può, chissà, magari si può tradurre in quel modo. Sicuramente sarà ancora più sofisticato fra qualche anno, fra qualche decennio però io credo è il motivo per il quale forse rileggiamo dei libri tradotti. Adesso negli ultimi anni vengono tradotti molti libri, vengono ritradotti anche libri importanti, grandi classici Camus, tantissime cose di Camus stanno ritraducendo con la Bonpiani lo stesso Acibe che è uno scrittore che era molto difficile uno scrittore africano è stato ritradotto è una traduzione una traduzione più attuale anche questo è molto interessante che vuol dire che la lingua invecchia una lingua attuale esatto però anche qui è vero che una lingua degli anni 50 oggi appare come una lingua invecchiata però passare al setaccio questa lingua e quindi tirare fuori soltanto il moderno forse rischia anche di far perdere una certa profondità temporale delle opere o forse no tant'è che uno scrittore spagnolo Cercas, Javier Cercas diceva che noi nella traduzione abbiamo la possibilità di leggere appunto Don Quixote gli italiani possono leggerlo nella lingua modernissima invece la letteratura propria del paese la leggi sempre Manzoni non lo puoi tradurre in italiano sì, si potrebbe però non avrebbe senso quindi ecco già questa cosa ci sono le ritraduzioni c'è un aspetto autoriale altrimenti non ci sarebbero altrimenti una traduzione basterebbe sarebbero semplicemente riportare delle parole da una lingua all'altra più o meno sensate più o meno logiche più o meno fedeli dipende dall'idea insomma sì questo cioè la cosa interessante rispetto al utilizzare una lingua attuale per rendere accessibile quell'opera a un pubblico diverso che se fosse diciamo solo filtrata la lingua più vecchia di quegli elementi propriamente arcaici e solo attualizzata quella lingua e non utilizzata la lingua diciamo corrente pone sicuramente una scelta una scelta anche qui una grossa responsabilità cioè preferisco tradire in qualche modo quella quell'epoca e quindi tutto quello che sta intorno all'epoca e alla provenienza temporale dell'autore o preferisco far leggere quell'opera a quante più persone possibili e so che quest'opera ha più un carattere divulgativo in questo momento penso alle cose che vengono fatte anche con le opere teatrali le riletture e le attualizzazioni di drammi del 500 e del 600 allora pro contro poi dibattiti che ci sono però penso che sia interessante che venga esplicitato anche l'obiettivo l'obiettivo è quello di portare a qualcuno in più quel messaggio oppure semplicemente di stravolgere e di usare la lingua del momento forse bisogna capire il perché o il fine certo sì io penso che il fine immagino non sia stravolgere a meno che non ci sia una banda così nichilista che vuole distruggere capolavori letterari però probabilmente è farlo arrivare anche questa è sempre è sempre difficile trovare anche una misura nel andare incontro al lettore oppure aspettarsi una piccola fatica da parte del lettore per e questo c'è anche nella traduzione nella traduzione ci sono questi due diciamo filoni traduttori adomesticanti e traduttori stragnanti quindi i traduttori stragnanti di fatto non fanno trovare diciamo la pappa pronta al lettore quindi gli portano un mondo e cercano di non aggiustarlo a sua immagine e somiglianza anche in cose futili a me da poco è capitato in una in una revisione di una traduzione nell'ex Yugoslavia il sistema di votazione nelle scuole elementari è da da uno a cinque e quindi in un episodio qualcuno aveva preso un due e la questione era questa che l'editor mi diceva no mettiamo un sei perché un lettore italiano non capisce che il due ma dico come non capisce cioè mica penserà il lettore italiano che in tutto il mondo il sistema di valutazione dello stesso cioè se si approccia un libro nuovo vorrà forse anche scoprire che penso un po' in Croazia per la sufficienza danno il due ed è stata una discussione di diverse insomma diversi scambi di email che avrebbe destabilizzato il lettore dico ma dio mio cioè non è proprio così insormontabile esatto poi non mi sembra così una creatura fragile il lettore italiano da essere destabilizzato però ecco anche qui è giusto ovviamente andare incontro al lettore soprattutto chi non leggendo molto oggi soprattutto alcuni tipi di letteratura avvicinare le persone giovani le persone che non si interessano è giusto però trovare una misura perché questo non sia poi soltanto un movimento ecco io ho un po' di allergia al considerare il libro come un prodotto un prodotto da consumare e quindi renderlo il più possibilmente appetibile perché altrimenti non è consumabile capisco che è anche un'idea forse un po' troppo nobile capisco appunto anche che rispetto al cinema le serie tv e il libro fa una fatica a competere per cui è necessario trovare degli aggiustamenti e quindi sì probabilmente la misura è un po' tra la posizione troppo purista esatto sì il concetto di accessibilità diventa discutibile perché rendere accessibile iper facilitando impigrisce e potrebbe offendere anche perché il lettore potrebbe dire ma sono bene in grado di fare questo passato come anche nell'ottica appunto commerciale più è comprensibile più è accessibile più probabilmente è facile anche da vendere eccetera quindi vanno a cozzare un po' gli interessi o perlomeno le visioni di chi scrive e traduce con quelli della casa editrice però noi avevamo un po' ipotizzato di andare per parole chiave e una specie di linea alfabetica che ha moltissime parole in realtà però ne diremo alcune tanto per orientare un po' la conversazione allora chi ha già letto qualcosa di Elvira sa che uno dei suoi testi di riferimento è la lingua di Ana sempre di lingua si parla si parla di un adolescente e quindi cominciamo un po' con la A allora oltre a Ana che è la protagonista di questa di questa storia associabile la lettera A di Ana e di adolescenza già accennato alla tua piccola Elvira che c'è in te adolescente e che parla bosniaco e la piccola Ana che anche lei subisce un cambio repentino di vita e si trasferisce dalla Moldova o dalla Moldavia che dir si voglia in Italia e anche lei fa tantissime constatazioni sulle parole quindi c'è una piccola Elvira anche in Ana beh A di a biografia A di a biografia A di adolescenza esatto beh sì ovviamente la lingua di Ana ma così come quasi tutto quello che io scrivo nasce da 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 qualcosa di autobiografico che si c'è in misura minore o maggiore dipende dai libri nella lingua di Ana c'era questa per me è stata una sorpresa improvvisa improvvisa ed è strano però probabilmente per molto tempo avevo avuto un rapporto estremamente difensivo del mio del mio stare in Italia e di quello che mi ero riuscita a a costruire guarda caso passando soprattutto attraverso la lingua quindi arrivando in Italia con questa con questo smarimento e anche insomma con la storia che ci lasciamamo alle spalle per cui un arrivo non del tutto sereno attraverso l'italiano che nel giro di pochissimo tempo avevo imparato anche con con l'accento con l'accento adeguato perché vivevo in provincia di Brescia e quindi avevo cercato di assorbire l'accento bresciano cosa che nessuno in effetti capiva nessuno ambisce tra il resto ad avere l'accento esatto infatti i desideri i desideri degli strani neanche i bresciani perché lo sanno no infatti no no ma infatti era strano per tutti che io volessi quell'accento lì ma nel momento in cui avevo ah sì ma nel momento in cui avevo iniziato a parlare e nessuno più individuava dal mio accento la mia provenienza io mi ero sentita libera finalmente in questo e quindi questo aveva significato poi sacrificare totalmente la lingua madre non parlarla più non farmi distrarre da questa lingua però ero andata avanti in questa corsa mia personale da appunto da adolescente poi da da ragazza di vent'anni venticinque senza mai farmi una domanda sulla mia lingua madre ero andata a studiare lingue e letterature straniere ma non certamente questa lingua così e poi però durante un viaggio durante un viaggio in Bosnia che poi in questo libro ovviamente cambia connotazione e diventa un incontro di Ana con una signora al parco durante un viaggio in Bosnia mi era successa questa cosa andavo in Bosnia con tutta una serie di autobus quindi di coincidenze ed ero arrivata a Mostar ma avevo appena visto partire l'autobus per Sarajevo quindi sono entrata in questo bar e ho aperto la porta e nell'aprire la porta la signora che lavorava al bar mi aveva detto nella mia lingua Dusomoi Ashtati che è un figliuola mia anima mia che c'è perché ero tutta trafelata e nel momento in cui lei aveva detto questa cosa io non sentivo questo modo di dire da quando ero bambina perché lo usavano di solito le persone più più anziane con i bambini e questo suo Dusomoi è stato appunto una sorta di di varco che si è aperto e mi ricordo che io mi sono messa mi sono commossa con questa signora che avrà pensato che ero esaurita a commuovermi perché avevo perso un autobus e quindi poi mi sono ho preso l'autobus successivo e ho pensato ma guarda un po' io non ho mai pensato a questa cosa della lingua cioè era talmente sepolta questa avevo sepolto impacchettato questa lingua con tutti i suoi riferimenti con tutte e mi credevo pure consapevole ma non ho mai pensato che cosa avevo fatto mi sembrava assolutamente normale anche giustificabile che io parlassi bene l'italiano e parlassi malissimo la mia lingua perché insomma non si poteva non si poteva fare altrimenti e allora da lì è nata da lì però questa lingua io l'avevo impacchettata e chiusa in un'età che è quella appunto dei miei 14 anni e allora Anna ovviamente ci sono tornata con la testa a quei giorni a quella mia a quella mia vita e ho cercato però di fare il contrario nel libro perché Anna invece non è così Anna è una testarda è una ostinata e allora attraverso Anna ho provato a pensare e se invece io non l'avessi impacchettata così rinchiusa dimenticata se mi fossi impuntata sarebbe come sarebbe andata la storia allora il libro nasce da questa domanda come sarebbe andata se io mi fossi invece trincerata anche in un mutismo pur di salvaguardare una lingua ed è stato un modo per un po' per sperimentare qualcosa che non avevo sperimentato ma anche per riflettere poi su tutto su tutto ciò su tutte quelle paure che appunto Anna ha è che io non avevo perché le ho semplicemente annullate per cui non mi sono chiesta oddio sto perdendo la mia lingua mi sono detta non fa niente devo perdere la mia lingua perché devo ambientarmi qui è stato più un la mia è stata più una reazione da animaletto che deve sopravvivere quindi non ci pensa adattamento adattamento esatto e quindi sì ecco per cui la parte autobiografica ovviamente sì è questa poi c'è la parte della menzogna che inizia in questo libro e c'è un po' in tutti i miei libri il mio fascino per le bugie esatto siamo già alla B siamo già la B ok siamo già le bugie no io prima di passare alla B volevo fare ancora un'associazione con la A la lingua dell'amore Anna a un certo momento scopre che la madre che si è trasferita in Italia per lavoro ha una relazione con un uomo italiano e ovviamente ci sono tutti i disagi dello scoprire questo a conferma di quello che è successo poi prima col padre e con il trasferimento della madre in Italia e con tutta la serie di vicissitudini però quello che si chiede la ragazzina è ma com'è possibile amare in un'altra lingua e questo secondo me è anche un nodo molto interessante del trasportare le parole per esprimere sentimenti perché nei libri deve succedere può succedere se è costretto a fare la traduzione ma nella vita tantissime coppie sono miste parlano lingue diverse ma che una ragazzina si chieda com'è possibile amare in un'altra lingua che cosa ha pensato Anna lì di questa difficoltà secondo te che cosa vedeva come difficile nell'amare in un'altra lingua ma credo fosse soprattutto il fatto che la 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 grande difficoltà con il trasportare le parole è che noi ci ritroviamo che portiamo partiamo da dei palloncini pieni le parole insomma me le soprattutto mentre scrivevo la lingua di Anna me le immaginavo così dei palloncini pieni di significato con una loro consistenza con un loro peso specifico e che però invece andando nell'altra lingua diventavano un'altra cosa diventavano passare in italiano il passaggio in italiano per Anna per e passare alle parole vuote le parole che non dicono nulla a un certo punto Anna dice beh ma dire ti amo dire sedia è la stessa cosa perché non ho avuto esperienza di nessuna di queste parole per cui sono sono parole che dal lato diciamo negativo hanno questa superficialità sono vuote di esperienza noi di solito il passaggio di insomma il processo di acquisizione delle parole passa attraverso l'esperienza noi prima ne facciamo l'esperienza poi diamo un nome alle cose di cui abbiamo fatto l'esperienza nei primi anni di vita e poi ci sono le astrazioni eccetera però non fare esperienza non legare questo amore a nessuna a nessuna cosa pratica non poterlo legare alle nonne perché le nonne non parlano quella lingua lì e allora è una parola che vuota che non hai tu non sai come riempire come e quindi come si può dove vanno a finire i sentimenti quando tutti quando le parole si svuotano che poi è forse una delle domande essenziali di questo libro tu appunto chi diventi quando passi a delle parole in un'altra lingua e ti senti in effetti incompleto perché ricordo che qualche anno fa in una scuola mi raccontavano che avevano fatto una sorta di questionario per ragazzi stranieri per descriversi ragazze e ragazzi stranieri e tra le varie descrizioni di sé c'erano quello di essere poco intelligenti e di non essere simpatici ed era particolare perché passava tutto attraverso la lingua il fatto di essere così in difficoltà a spiegarti e esprimere le tue opinioni piano piano ti fa sentire che sei più stupido rispetto a uno che invece ha a disposizione tante parole tu ne hai 20 30 o 40 ed è un'esperienza che provano più o meno tutti quando vanno in un luogo dove per ordinare un piatto che poi non hai capito neanche cosa è ordinato ti stanchi così tanto che dici oddio ma è passato solo questo di me sembro questa persona così poco e quindi ecco sì tutto anche ciò appunto che proviamo in questo caso per quanto riguarda Ana è l'amore è l'amore che lei non capisce un po' anche perché questa madre ha un amore per qualcuno che non è suo padre per qualcuno che è anche in un è un altro mondo anche il codice in cui si intendono la madre e la figlia non è più lo stesso che era prima quindi questo io penso però che capiti in generale a tutti con le lingue perché noi abbiamo tutti una nostra lingua personale e abbiamo delle nostre lingue nelle relazioni e nel momento in cui abbiamo una litighiamo con qualcuno iniziamo a parlare un'altra lingua è una lingua fatta di mutismi di silenzi e quindi tutti noi sappiamo che abbiamo tante lingue a disposizione e non in tutte e non in tutte amiamo e non in tutte siamo arrabbiati sono sono tanti tanti rami e penso che davvero al di là dei luoghi dove ci sono vere e proprie pluralità linguistiche ma ci sono sempre nella nostra nella nostra storia e vanno un po' con con le varie parti di noi che esprimiamo quindi per questo credo anche che le questioni che pone che pone l'immigrazione che pone questo spostarsi che poi l'immigrazione anche la parola immigrazione è molto difficile da usare perché ormai nell'immaginario l'immigrazione è un qualcosa che ha a che fare con gli altri che non sei tu cioè che non sei tu quantomeno europeo e quindi per non usare l'immigrazione le persone che si spostano da un luogo all'altro e quindi vivono una condizione umana enorme perché spostandosi da un paese all'altro da una lingua all'altra pongono delle questioni in maniera estrema ma sono questioni che viviamo tutti nelle nostre piccole questi perché sono condizioni così grandi enormi e quindi sono marcatamente più visibili però appunto anche la lingua è un mi ricordo una volta a Torino avevo fatto una presentazione della lingua di Ana e una ragazza torinese che però aveva i genitori campani raccontò che lei per anni aveva cercato di far finta di essere una torinese doc e che sua madre rovinava sempre tutto quando si affacciava alla finestra lei giocava con altri bambini in strada e la madre si affacciava alla finestra e il dialetto loro la chiamava a cena e quindi tutta la sua fatica di essere una finta torinese ed era insomma palpabile era ovviamente anche quello uno spostamento all'interno dello stesso paese però le questioni erano sono sempre molto molto simili sì infatti si parlava anche di mimetismo ieri con i colleghi e spesso è un mimetismo che non è solo per la questione appunto della lingua della migrazione ma sappiamo che in adolescenza c'è il mimetismo anche per vergogna di altre cose no quindi insomma è una è un è un comportamento che la natura ti suggerisce per non soffrire o per non rimanere vittima quindi è un comportamento adattivo abbastanza naturale anche quello no e andando verso la B che poi non arriveremo alla Z non spaventatevi comunque cosa c'è di Bosnia ancora in te oltre alla lingua quattordicenne e alle traduzioni sarebbe sarebbe un po' difficile un po' da scandagliare non so c'è c'è molto di Bosnia in me quando vivo in Italia perché forse vivo sempre per reazione e quindi quando vivo in Italia trovo tantissimo del è un po' è un po' come quello che si racconta degli immigrati italiani che tornano dall'Abruzzo cioè che tornano dagli Stati Uniti in Abruzzo e parlano un'altra lingua hanno ricordi di altre cose hanno e quindi hanno un'italianità che nessun italiano riconosce più come tale degli anni 50 esatto esatto e a me succede succede un po' questa cosa che mentre sono qui penso di avere tantissimo di bosniaco e poi e poi di fatto vado in Bosnia e invece succede che delle persone mi facciano complimenti per come ho imparato il bosniaco perché lo parlo con l'accento italiano e quindi anche i tempi e forse perché si rimane un po' sicuramente si rimane sempre in quella benedetta dimensione di mezzo di cui si parla tanto per chi vive un esilio e si rimane un po' in mezzo nel senso che alcune cose restano immutabili perché non possono mutare perché non sono più pratiche sono tutte andate a un livello diciamo immateriale perché le città i paesi si sollevano in questo libro molto bello di uno scrittore bosniaco che si intitola nel centro del mondo di Javad Karahassan lui dice che la sua città si era alzata e aveva iniziato la città che lui amava viveva in una dimensione sospesa e poi era rimasta Sarajevo quella terra però che non era più e quindi credo che capiti un po' questo che c'è che c'è ecco che non è un luogo perché la Bosnia se diciamo se c'è qualcosa di bosniaco in me non è più un luogo ma è un tempo e questo cambia tutto perché non è non è dello spazio che sia dello spazio e basta dello spazio in maniera così ma è del tempo forse di un tempo passato in un certo luogo che era così e che poi nella tua memoria è legato e rimane così ovviamente nel momento in cui si torna non si trovano più corrispondenze non si trovano più e allora è tutto un aggiustare questa però questo nel questo invece questo mondo che evapora ne rimane la traccia nella lingua ne rimane la traccia nella letteratura e tradurre persone che sono anche loro così alla ricerca di quel mondo che è evaporato crea una sorta di comunità di persone che vivono alla ricerca di questa Atlantide che insomma è in qualche modo forse scomparso o mai esistita ed è sì penso allora che davvero la nostalgia è più per me una questione temporale che spaziale e della Bosnia della Bosnia sì vive come tutto ciò che nella nostra memoria in qualche modo è immortale quindi rimane rimane forte però non è non è più caratterizzabile con con tratti con tratti pratici o materiali o materiali esatto sì infatti questo spostamento no tu dicevi giustamente è un spostamento da un posto all'altro più che chiamarla immigrazione o migrazione e di fatto tutti quelli che che parlano del loro percorso parlano di un fortissimo scarto di tempo e di spazio nel momento in cui si spostano si spostano anche temporalmente non solo non solo fisicamente da un paese all'altro quindi sicuramente la dimensione spazio-temporale o diciamo vive una sorta di di commissione oppure di sfasamento totale questo è anche abbastanza interessante per per riuscire a capire come chi ritorna poi al proprio paese dopo 10 20 30 anni in realtà riprova uno spaesamento fortissimo quindi che cos'è poi qual è il paese poi a cui mi riferisco maggiormente o a cui appartengo quindi sensi di appartenenza o non appartenenza di comunità o non comunità adesso le lettere dell'alfabeto si mescolano naturalmente ma secondo te è necessario o quanto è necessario cercare di 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 portare ai ragazzi alle giovani generazioni la pratica del decentramento per riuscire a fare un passo oltre la propria posizione oltre la propria posizione cioè posizione che potrebbe essere sia ideologica che collocazione nello spazio e anche nel tempo ai ragazzi nelle scuole superiori tu intendi cioè in generale alle persone in generale ovviamente in grado di poter seguire questo tipo di di attività e di processo cioè riuscire a fare un passo indietro ed entrare un attimo nella logica di chi no senza senza trascendere nell'empatizzazione totale però operare un decentramento che ti possa essere funzionale a una comprensione migliore del mondo perché se no è parziale no beh anche credo che come in tante altre cose non è non è tanto il cosa uno fa ma come lo fa penso anche in progetti di decentramento certo togliersi togliersi dal proprio dal proprio piccolo mondo egocentrico fare spazio agli altri noi pensiamo ai ragazzi e poi però se tutto il mondo è fatto di persone che in realtà agiscono in questo modo noi siamo in un momento di grandi polarizzazioni per cui nessuno vede l'opinione dell'altro nemmeno abbiamo più il tempo di chiederci se quello che abbiamo inteso dall'altra persona sia davvero corretto abbiamo davvero inteso quello che voleva dire no subito si parte quindi credo che a livello culturale intorno ai ragazzi ci sia non ci sia questo clima per cui non è possibile pretendere che ce l'abbiano loro se intorno a loro c'è tutto un mondo in generale da quel poco che mi capita di vedere nelle scuole dove vado per progetti di lettura in realtà è un'età quella dell'adolescenza dove tutto sommato c'è molta curiosità ancora e questa curiosità si esprime non per forza in maniera politically correct anzi e va bene anche questo però c'è molta capacità di vedere anche nuovi mondi nuovi linguaggi diverse io credo che il problema purtroppo sovenga dopo nel momento in cui noi veniamo regolamentati dalla società nel momento in cui con la maturità con la maturità intendo intorno ai 20 anni non quella vera insomma impossibile però per cui non so quanto quanto siano i ragazzi ad avere bisogno di questa cosa e quanto siamo in realtà tutta la società perché davvero a me sembra di notare che progressivamente con quanto si cresce ci si riduce sempre di più al proprio piccolo io alle proprie posizioni all'incapacità anche del dialogo spesso la cosa che noto sono questi appunto monologhi e non c'è in questo una vera propria cultura per cui credo che io li farei per forse per altri questi percorsi esatto forse per i docenti che hanno a che fare con gli adulti esatto sì sì e oltre alla lingua di Ana ovviamente ho scritto anche altre cose una delle più recenti è consigli per essere un bravo immigrato e tu in una intervista dicevi inutile che tutti parlino rispetto ai temi dell'immigrazione forse è meglio chiedere direttamente a chi l'ha sperimentata che cosa ne emerge da questo quadro quali sono i consigli per essere un bravo immigrato a comportarsi bene questo libro in realtà nasce da una cosa che all'inizio mi sembrava surreale mi sembra tuttora surreale però mi sembrava anche potesse avere dei risvolti ironici e divertenti e nasce da questa scoperta che poi ho notato che poche persone lo sanno forse perché sempre per tornare appunto al decentramento noi parliamo delle cose senza poi di fatto sapere nulla in particolare sappiamo abbiamo dei macro argomenti e l'immigrazione è uno dei macro argomenti ai quali poi sono legati due tre slogan i soliti che vanno avanti da anni però in particolare di quello che succede davvero a una persona che arriva in Italia oggigiorno e che deve ottenere dei documenti perché sono la cosa fondamentale che serve primaria non ne sappiamo nulla e quindi quando qualche anno fa venne a conoscenza del fatto che per ottenere i propri documenti una persona che arriva in Italia deve andare davanti a una commissione istituita apposta sono commissioni territoriali e ce ne sono in tutte le regioni deve andare davanti a questa commissione e raccontare la propria storia di vita però la propria storia di vita non è che può essere una storia di vita normale perché se no non ti meriti i documenti i documenti si meritano soltanto se tu hai tutta una serie di tragedie da snocciolare davanti a questa commissione allora come si fa uno che è arrivato in Italia e non ha una storia del genere però sa che se lui racconta la sua storia personale non gli daranno i documenti deve inventarsi una storia esatto e qui ritorniamo alla mia passione per le bugie e quindi bugie e storie e quindi si deve confezionare una storia a sua misura e in questo nel modo in cui ti devi confezionare le storie nelle regole per avere una buona storia c'è tutto ciò che che l'occidente pensa e considera dell'immigrazione dell'altro di colui che arriva da un paese da un continente come quello africano soprattutto ma anche insomma dell'est Europa e allora mi interessava cercare di ripercorrere questa questa sorta di regole questa in un libro che è un po' un ibrido perché da un lato ci sono io che sono proprio appunto io e Elvira che incontro Ismail e Ismail invece è un personaggio che nasce da due personaggi però e c'è questo anche questa sorta di confronto tra Ismail e tra la sua di migrazione in questi anni 2000 e quella mia negli anni 90 tra una migrazione di una persona che è bianca e una invece nera e questo fa la differenza grande e una europea e l'altra africana e quindi insomma ci sono tutte tutte queste tutte queste fila da da tirare e però è un libro soprattutto nonostante tutto cioè nonostante tutti questi temi è un libro soprattutto su un'amicizia su un tentativo di fidarsi di qualcuno e quindi queste queste due persone stanno diciamo io me li sono immaginati sempre anche se camminano per Roma continuamente ma me li sono sempre immaginati sulle due sponde di un fiume nel tentativo di decidere se o no fidarsi uno dell'altro e quindi decidere se raccontare poi davvero questa alla fine perché a chi raccontiamo la nostra vera storia ed è un sì ed è un modo anche per forse riprendersi almeno l'intimità di una storia perché è incredibile che tra le poche cose che un essere umano si porta con sé ci sono la propria lingua e la propria storia e che le debba poi svendere in questo modo in questa per ottenere un pezzo di carta oppure per ottenere un'integrazione e sono in effetti davvero i due legami di appartenenza più forti con il mondo e con il luogo da dove venivi prima sì ne viene saggiata la coerenza o la logicità non tanto la tragicità anche questo è abbastanza interessante e sì a proposito di di valigia nella valigia Diana diceva io in fin dei conti devo mettere molto poco ma cosa devo portarmi via e questo succede nella maggioranza dei casi dove i trasferimenti sono rapidi o avventurosi c'è poco spazio per le cose quindi cosa rimane da portare via quello che non si può mettere in valigia ed è la cosa più difficile e infatti lei dice io continuo a perdere cose ma se io continuo a perdere cose alla fine perdo la vita è un po' così o è una vita metaforica in questo senso non fisica quella di Anna c'è anche quest'idea della crescita perché Anna il fatto che Anna sia un adolescente che quindi si appresta anche alla vita adulta attraverso la presa di consapevolezza della perdita perché tra le varie cose è una costante della nostra vita di fatto noi continuamente ci dobbiamo separare dalle cose dalle persone dai luoghi e fa parte del fatto di essere di passaggio quindi Anna perde continuamente cose perché un po' diventa anche adulta è un po' un po' si una perdita di infanzia sì anche una perdita di infanzia che poi in questo caso come dicevamo prima ovviamente è tutto molto più estremo è la perdita di un'infanzia ma e quell'infanzia però era dentro un paese era dentro una lingua era dentro una situazione totalmente diversa per cui è una perdita estrema ed è estrema e radicale come l'età che Anna ha perché per tutto per tutto un lungo tempo in effetti l'altro personaggio che che fa da controbilancio a Anna è invece una signora anziana che della vita ha un'idea ovviamente diversa perché non è non è più così radicale ma relativa infatti a un certo punto Anna lo dice che l'essere giovani significa essere radicali invecchiare e diventare relativi in qualche modo quindi è generazionale anche se non implica necessariamente altre questioni esatto e tu invece scrivi hai scritto anche per il teatro per spettacoli teatrali cosa ci puoi dire di questo aspetto di scrittura questo non è non è il mio diciamo il mio aspetto non è non ho mai scritto da sola ho scritto con altre persone per cui in realtà la mia scrittura continuava ad essere una scrittura simile alla prosa che scrivo e poi il testo veniva lavorato con le persone invece con un regista in un caso in un altro caso con una regista e un'attrice e questo però era era molto molto bello da vedere il processo il processo di trasformazione di un testo che diventa un'altra cosa anche qui si è sempre in un in un processo anche di perdita perché un testo adattato integrato trasformato non è più il testo che asciugato per il teatro assolutamente quindi diventa un'altra cosa rispetto a quello che è scritto rispetto a quello che ti sei anche immaginato e soprattutto la cosa bella che non è più il tuo testo ma diventa il testo di tutti quelli che ci lavorano per cui processo collettivo di scrittura collettiva e questo è è bello perché ha tante voci perché puoi riconoscere tante tante mani è un po' è anche insomma una responsabilità condivisa per cui ti alleggerisce un po' la coralità sì è una scrittura che in effetti mi piacerebbe mi piacerebbe approfondire perché ha ha delle libertà a volte almeno notavo delle libertà che spesso il romanzo non ha che può essere più costrittivo poi in realtà se uno se uno se ne se ne libera anche delle costrizioni può andare anche nel romanzo certo certo a me incuriosiva sempre il riferimento al sottotitolo della lingua di Anna il fatto che tu prendi comunque in considerazione le radici no allora anche questa è una parola mainstream no insieme a immigrazione e il nostro comune amico antropologo Marco Aime sostiene che gli uomini hanno i piedi apposta e gli alberi hanno le radici proprio per la ragione opposta quindi se noi abbiamo dei piedi è necessità che dobbiamo spostarci e che la nostra natura è mobile mentre invece l'albero ha le radici per cui è ovvio ed evidente che la sua natura è quella di stare lì fermo e piazzato allora cosa pensi un po' di questa enfatizzazione sul tema delle radici e se condividi abbastanza l'idea della naturalezza nel nostro essere mobili beh certo chi sarei io a contraddire Marco Aime e tanti altri e sì beh le radici sono un po' quelle parole trappole come come l'identità come come tutto tutto ciò che che in effetti dà un'idea di immobilità l'identità Francesco Remotti che è un altro antropologo collega di Aime ne parla molto del anzi per lui è tutto il suo percorso è stato cercare di liberarsi di questa parola fino alla fine proporre appunto somiglianze invece che identità sono d'accordo l'identità anche a me è una parola che mi fa un po' così quantomeno richiama insomma non ricordi belli vengo anche da un paese dove l'identità ha significato tantissime cose si è passato dal dal riuscire a creare intorno a un'identità inventata un paese possibile e pensare di riuscire intorno a questa identità appunto inventata ma un'identità particolare che già nel suo essere così com'era ossia plurale già in qualche modo negava il concetto di identità perché la pluralità di lingue di religioni di appartenenze di culture all'interno della Jugoslavia era un qualcosa per cui quando tu incontravi l'altro non potevi dirti identico cioè non avevate la stessa identità perché non eravate identici però ci si poteva riconoscere c'erano delle somiglianze che portavano allora quindi da un paese di questo tipo in cui l'identità era qualcosa di molto vasto riconoscersi nel nel plurale tant'è che tuttora c'è c'è questo questa cosa molto molto bella secondo me che quando ci troviamo tra persone provenienti dall'ex Jugoslavia dalle varie repubbliche ancora prima di sapere perché ovviamente c'è sempre un po' di tensione nel scoprire chi viene da dove ancora prima di sapere noi diciamo parliamo nella nostra lingua cioè la lingua noi la chiamiamo la nostra ma in realtà questo adesso perché adesso è divisa e quindi si chiama in 4 o 5 modi diversi però lo è sempre stato noi chiamavamo appunto nasci esic la nostra lingua ed era molto bello secondo me che una lingua fatta di tantissime differenze per cui viene definita una lingua policentrica per cui ha diversi insomma centri linguistici che hanno delle differenze però veniva chiamata la nostra quindi un'identità di questo tipo si è passata a un'identità castrante un'identità che piano piano si è ridotta a identificare semplicemente la religione della persona per cui oggi nella ex Yugoslavia le persone sono quasi esclusivamente identificate in base alla loro religione che coincide con la loro nazionalità per tutti tranne anche per i bosniaci per i quali hanno inventato il nome bosniatico per riuscire a unire queste due cose e quindi ecco in questo senso l'identità in effetti è una parola piena di trappole le radici le radici io credo che invece siano una sorta di bisogno perché è vero che noi non siamo alberi perché appunto ci muoviamo e le radici di cui parliamo linguisticamente non sono le radici degli alberi sono un qualcosa è un sapere da dove si viene è un sapere di avere un inizio credo che sia un bisogno generale dell'essere umano e poi diventa anche però un po' più particolare diventa in una società strutturata come la nostra io ricordo delle sensazioni di totale smarrimento nel non essere nel non appartenere a nessun posto dal punto di vista dei documenti mi ricordo questa cosa che può sembrare stupida è anche è anche insomma tutto sommato sorpassabile rispetto a tante altre però una volta mi capitò a Vienna di perdere il cos'è che ho perso il passaporto sì ho perso il passaporto bosniaco perché avevo ancora la cittadinanza bosniaca il permesso di soggiorno italiano quindi viaggiavo con questi pezzettini di carta e mi ricordo che a Vienna pensai beh quindi devo andare in una in un'ambasciata bosniaca a Vienna andai nell'ambasciata bosniaca a Vienna mi dissero ma però lei non è residente qui no in Italia però noi non ci occupiamo di bosniaci che vivono in Italia cioè deve andare in un'ambasciata bosniaca ma in Italia però ho perso perché di fatto tu non sei più un cittadino della Bosnia ma sei un cittadino bosniaco che vive all'estero e quindi ha un'altra un'altra società quindi dici ma dove va in un'ambasciata italiana non posso andare perché non ho i documenti e alla fine appunto supplicando mi hanno fatto una sorta di certificato però mi ricordo che avevo questa chiara sensazione che non c'era un paese al quale io potessi fare riferimento e questa era anche la stessa situazione che mi capitava quando andavo in Bosnia e andando in Bosnia facendo vedere il passaporto bosniaco però dell'estero mi chiedevano anche il permesso di soggiorno italiano per sapere dove esattamente e quindi dicevi ma e quindi non c'è una nazione non è mai abbastanza comunque non è mai abbastanza ma poi tu sei nato in quel luogo e in quel luogo ti chiedono il permesso di soggiorno italiano diceva perché allora questo credo questa sensazione di manchevolezza che poi hai nel mondo e che poi però insomma quando si ha a che fare con le questioni burocratiche può diventare un inferno totale ha a che fare anche con le radici avere delle radici e dire beh io vengo da qui sono c'ho una storia c'ho in qualche modo ti aiuta anche a sostenerti nei luoghi dove vai perché perché essere senza senza una storia in alcuni casi è bellissimo e una perdita della memoria potrebbe essere davvero la soluzione a tanti mali però in tanti altri casi invece questa storia diventa l'unica cosa alla quale tu ti appoggi e dalla quale trai risorse per cui è un po' è un po' quello che c'era anche alla base appunto dei consigli per essere un bravo immigrato questa questa storia tua che che tu custodisci e che in effetti c'è un detto africano che dice quando non sai dove vai ricordati almeno da dove vieni perché è una bussola ovvio che se noi intendiamo le radici come un posto dal quale non ci spostiamo e nessun altro deve venire questa è un'altra cosa però come bisogno emotivo anche culturale forse non è non è una una sensazione o una parola del tutto del tutto da cestinare o da o da condannare sì il discorso delle famigerate radici culturali europee è stato un dibattito piuttosto acceso adesso non se ne parla più tanto ogni tanto rimerge e anche qui c'è il rischio della giusta posizione a posteriori di qualche cosa di comune che comune non c'è perché si va a cercare ma cos'è effettivamente quella radice comune la culla del mediterraneo noi siamo più o meno in conclusione di incontro adesso se c'è qualche curiosità ancora da parte di qualcuno abbiamo tanti argomenti ancora volendo però si può stare qui veramente ore a ascoltare il Vira perché di qualsiasi cosa c'è da approfondire e lei ha una visione che a noi piace sicuramente sentire avete qualche curiosità rispetto ai suoi testi avete letto qualcosa di cui volete qualche chiarimento o mi viene in mente qualcosa mi è arrivata forte non so darvi certo certo dentro di me c'è una lingua di una volta di vicenda perché ovviamente sarai dedicata a quella e quindi come sappiamo la lingua non è che basta essere italiano o tedesco o francese per avere una conoscenza della lingua appropriata o sviluppare o conoscenza della lingua quindi sentire di parlare la mia lingua spesso in italiano ho studiato una lingua molto diversa non perché mi sono trasferita 14 anni non è pensabile che la tua lingua sia la tua lingua bosnickata sia una lingua di un adolescente quindi hai imparato la tua lingua dalla lingua scritta come come c'è te l'ho detto io traduco giustamente il solito si traduce da verso e ti ho detto come fanno il contrario quindi questa è veramente una cosa che penso sia straniante al massimo capisci cosa vuol dire ma lo si è dato una fortuna in più in via perché i nostri giovani non sanno più l'italiano perché non è mai ci costringevano ma la mai sono anni che per far leggere un libro hai bisogno in forse no? Quindi come hai vissuto questa focalizzazione della lingua scritta rispetto alla perdita della lingua parlata che è fondamentalmente emozione e non conoscenza? Sì 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 certo in realtà la lingua scritta almeno a me trasmette nella traduzione se rimaniamo soprattutto alla traduzione perché io leggo ad alta voce spesso prima di iniziare a tradurre la prima volta che leggo il libro da tradurre lo leggo ad alta voce ma un po' per sentirlo e un po' anche per esercitarmi perché appunto non parlandola mai e un po' spesso nella maggior parte dei casi traduco scrittori che sono ancora vivi scrittrici ancora vive per cui ho anche la loro voce in testa perché le ho sentiti parlare quindi non è del tutto una lingua scritta quindi in qualche modo inattiva non emozionale non so poi io con la parola scritta ho sempre avuto un rapporto molto molto forte per cui non la sento cioè non la sento priva di emozione anzi penso mi dà anche la possibilità la lingua cioè la parola scritta mi dà la possibilità di anche di emozionarmi di più perché mi dà il tempo mentre nel parlato esatto nel parlato spesso spesso le parole sono un fiume e non si arrestano invece nello scritto soprattutto per quanto riguarda la mia lingua madre a volte io mi incanto di fronte ad alcune parole perché come in ogni lingua ci sono delle cose intraducibili ci sono delle parole intraducibili ci sono dei verbi che secondo me sono intraducibili perché non so nella mia idea nella mia sensibilità linguistica esprimono sia lo stato che il moto contemporaneamente e quindi non la trovo priva di emozione anzi non è stato neanche stragnante il fatto di di tradurre perché io la mia lingua madre l'ho in qualche modo reimparata la comprendevo comprendevo i discorsi soprattutto quelli quotidiani familiari eccetera l'ho reimparata da grande quando ho iniziato quando sono tornata a leggere in quella lingua quando sono tornata ad avere anche rapporti di amicizia con persone che parlano la mia lingua per cui è stato un passaggio strano è stato un avere una lingua non avercela più e poi ritrovarla è un po' un amore travagliato diciamo esatto abbandonico per cui mentre con l'italiano questa cosa è stata è stato un amore felice è stato un corteggiamento sfrenato sin da subito e poi è rimasta la lingua nella quale io mi sento a mio agio è stranamente la lingua dove io mi sento più a mio agio anche rispetto al bosniaco per cui per cui si è una prima che si impara a vedere anche leggendo ah beh sì 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 poi abbiamo scoperto che recentemente hanno tradotto i fumetti di Alan Ford in bosniaco e facevamo questa considerazione di cosa ci perdiamo quando non abbiamo l'ausilio della traduzione un popolo si perde produzioni artistico letterarie complete se non c'è qualcuno che le traduce questo è pazzesco pensare no? quindi evviva i traduttori e le traduttrici anche chi li fa tradurre e anche chi si e anche chi e anche chi li fa tradurre certo certo bene se non ci sono altre curiosità noi vi salutiamo ringraziamo Elvira per la compagnia grazie a voi per gli approfondimenti e grazie al Teatro Cristallo al percorso Madre Terra che continua penso come tutte le altre iniziative quindi grazie per l'ospitalità grazie a Barbara arrivederci grazie a voi 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 grazie a voi